Il videogioco più italiano mai fatto. Si chiama Pizza Tower e racconta la storia di Peppino Spaghetti, miei fantasiao, che ovviamente è un pizzaiolo. Un giorno una pizza gigante onnisciente lo informa che una torre vicino al suo ristorante ha approntato un mega raggio laser, che potrebbe disintegrare la sua attività da un momento all'altro, e lui compreso. Il cuoco quindi si precipita in una folle corsa per sventare il pericolo. E niente raga, sto gioco è follia pura. Talmente veloce che se ci giochi rischi un attacco epilettico e con animazioni totalmente fuori di testa. Bisogna correre come dei pazzi per salvare gli ingredienti della pizza e contemporaneamente conservare la sanità mentale. Vi assicuro che fare entrambe le cose è davvero un'ardua impresa.